anche a questo salone di parigi dici seat e pensi immediatamente alla teca il nuovo suv della casa spagnola sta avendo un riscontro davvero notevole forse persino oltre le previsioni della stessa seat e a questo punto è arrivato il momento di presentare qualcosa di nuovo l'abbiamo alle nostre spalle e la seat experience quali sono le sue caratteristiche ben sia siamo molto contenti con la partenza della nuova teca si vede che è una macchina assolutamente su misura per il mercato italiano la reazione che abbiamo avuto dalla stampa dai clienti potenziali della rete è stato un grande successo allora prendendo gli ingredienti della teca che è la bellezza del design e le dimensioni compatti molto spazio all'interno una guida meravigliosa combinato con tutta la nuova tecnologia che abbiamo finora mirato su l'uso quotidiano urbano sulle autostrade abbiamo pensato di far vedere far scoprire anche l'altra dimensione della teca che è quello di un vero su allora l'experience che abbiamo rivestito all'esterno i paraurti i cerchi gli interni e l'abbiamo abbinato con il 192.000 DSG quattro ruote motrice è un'espressione di proprio la macchina che è stata rialzata anche di 25 mm di portarla far vedere nel suo versione fuoristrada perché sotto la tecnologia che abbiamo con il hill descent control con il traction control da questa macchina una capacità inaspettata per un SUV urbano allora abbiamo proprio una macchina dove non è una compromessa tra su strada e fuoristrada è una macchina che la tecnologia ha allargato la busta di capacità e giochiamo in tutti e due i campi adesso un'esperienza totale perché lo vediamo anche alle nostre spalle c'è una piccola tribuna per un evento molto particolare che avete organizzato proprio per mostrare la teca experience sì noi crediamo molto nella tecnologia come eravamo i primi di offrire il full link per esempio sull'ibiza dove si può controllare il cellulare e integrare i dati della vettura con il cellulare qui volevamo creare un'esperienza di questo uso della tecnologia allora la nostra presentazione qui è un'esperienza 4D che vuol dire con gli occhiali uno ha un 360 gradi viaggio attraverso Barcellona in barca, su un skateboard, nella teca, si vive proprio l'atmosfera della città e poi è collegato anche ai sedili allora questa è la quarta dimensione che è il movimento che uno sente anche fisico non solo degli occhi virtuali allora io chiuderei parlando diciamo in soldoni la teca experience quando la vedremo e quanto costerà sul mercato italiano? noi lo presentiamo qui come un concetto perché sempre noi vogliamo testare la reazione dei clienti potenziali a quello che offriamo allora dopo il salone di Parigi devo dire le prime reazioni sono state positive faremo i conteggi ma è una versione che è fattibile in brevi tempi direi quindi diciamo per il momento non è completamente in progetto però qualche chance di vederla su strada ce l'abbiamo? assolutamente uno deve fare queste manovre testare il mercato e poi se c'è la domanda veramente per questa vettura noi siamo disposti di farla noi riusciamo a dire magari a lanciare qualche una data qualcosa 2017-2018? non abbiamo una data precisa in mente c'è un detto in inglese che dice never say never allora non vi posso dire precisamente quando verrà ma rimane una forte possibilità diciamo ci ho provato rimaniamo ancora nell'ambito delle concept car però davvero una concept car molto affascinante come le altre che potrete vedere sulle pagine di motore online ci vediamo alla prossima intervista e rimanete sempre con i nostri servizi e le nostre interviste speciali ci vediamo alla prossima interviste